ah questi cani sa che forse devo per forza ok ti ha lì su ottimo qua fucilotto d'assalto armatura armatura ottimo qua non posso fare nient'altro qua neanche beh però un po' di cosine siamo riusciti a fare ragazzi ottimo ottimo perfetto allora qua intanto quindi abbiamo curato che qua c'era un'altra di queste qua che però era già su quindi se io tiro giù scende giù no allora tiriamo la su tiriamo la su ok visto che non c'ho voglia di rifare di nuovo tutto salviamo beh perché non va avanti bagone enorme questo ok perché non va avanti rimane proprio bloccato ok capiamo il perché e no vedete che però non mi fa andare oltre c'è qualcosa che non quadra di solito basta spararci perché qua si blocca in questo punto e glitcha malissimo tra l'altro ma scusa ma se io facessi così per dire bagone della madonna ok ok andiamo 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 bella qua non so dove stiamo andando fermi qua era dove eravamo prima ok vabbè già che siamo qua però aspettate scusate aspetta devo vedere qua che cosa c'era che secondo me ehi infatti vita c'era finchè c'è vita c'è speranza ragazzi ta 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 questa qui è proprio una frase vecchissima madonna ragazzi che perle di vecchiaio mi sto dicendo mi sto dicendo aspetta qua sono un po' tanti qua sono un po' tanti ora va bene ottimo nooo che pirlata che ho fatto ok ho fatto un po' una pirlata eh sono sincero perché ma non c'è da essere sinceri siamo sinceri ragazzi però dai vabbè ma com'è che si qua collaborano assieme io vorrei capire perché anche perché io vi sia anche combattere dove 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 ok oh finalmente ottimo eh ho sbagliato non volevo utilizzare però vabbè ho utilizzato la magnum vabbè wow 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 fermo ha ucciso grande surrender freeman ok qua è un po' particolare aspettate no allora ce la fai saltare ma perché non salta ok e niente non salta ok ce l'ho fatta si eh ho notato che tanto sono io quello che vogliono quindi in realtà allora vediamo così ok ok eh devo per forza arrivarci mi sa con l'arma bravo eh non posso farci niente niente proprio via 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 quel maledetto e non possiamo farci niente 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 ok ok e adesso qua però secondo voi si lancio questo ma lol ma come sei morto male ma perché sta cosa sì ma ragazzi non so assolutamente che cosa debba fare adesso cioè nel senso ok 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 perfetto allora ragazzi io qua mi ero impallato di brutto ho cominciato a vedere un attimino come cazzo fare sta parte perché altrimenti qua non andiamo più avanti ed è un casino ok quello lì è rotto prendo solamente lassù la addio io vorrei capire perché se salto non salta il gioco vedete non salta cioè nel senso proprio nei momenti in cui io salto il gioco decide di non saltare è una cosa che non capisco molto bene ma penso sia dovuto alla vecchitudine di questo gioco in questo caso fatemi dire le vecchitudine vi prego ragazzi vedi 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 non riesco vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere ok qua intanto si deve per forza aprire ok 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 bella lì ce ne sono altri no Ottimo Allora, giù di qua non c'è nessun altro Ok Tanto qua ci piemo le ammo che non guastano Ah, fermi Che intanto guardiamo qua se c'è qualcosa Vita Oh, così mi piace Ottimo Vediamo se c'è dell'altro di interessante Di qua Armatura ragazzi, armatura Così ci piace A noi ci piace così il gioco Ci piace così Perfetto Uh, sì, sì, qua dobbiamo far veloce Petta, petta, petta Petta Ok Dove sei? Ah, qua l'ho proprio morto così Ok Fermo Allora, aspettate che qua vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante Già che ci siamo Beh, c'erano Oh, ecco, ecco Queste mi interessano I bossolotti Quelli delle Delle Uh, no, no No Ma in effetti è strano Elettricità di solito Oh, mi sono incast... Veramente non mi dire che mi sono incastrato Ti prego Sul serio? Ok, mi sono incastrato Perfetto Uff Meno male, mamma mia Petta Ok Qua ti pareva che non... Come al solito non ci fanno aprire le porte Che brutte persone, però Io voglio aprire le porte, ragazzi Voglio far burdel, voglio fare Vogliamo far burdel Aspetta qua, facciamo piano Wow Ma sul serio? Poi? Perché scusate? Ma non mi hanno colpito Ma mai nella vita mi hanno colpito questi qua Allora, no, aspettate Voglio andare un secondo A prendermi Merda Perché qua ci sono i bossolotti Che mi servono Allora, abbiamo un bel problema adesso, ragazzi Però Perché se non possiamo Cioè, come cazzo facciamo adesso Prendere quelle laggiù O andiamo iperveloci Però Vi sembra di aver capito che Scusa, ma se io facessi così Ipoteticamente Aspettate Così Secondo voi Ok, così non funziona Ma per meglio dire Funziona come vogliamo farlo Aspettate Aspettate Mamma porco Due No, aspettate No, aspettate Vai Allora Allora Allora, qua è un bel casino, ragazzi Perché in realtà Dobbiamo fare così Aspettate Ma posso farlo O no Ok Qua se posso fare volendo così Sì, però No, fermo Ok Stavolta ce l'abbiamo fatta Ma perché? Ammo vita Tutto Che figo però, cazzo Voglio poterlo utilizzare anch'io Cazzo Guardate che figata, ragazzi Non ci credo Vabbè Allora, visto che non so cosa mi attende Salviamo Ok Anche perché non si è messo in malaccio Con la vita e tutto Qua comunque ad ogni curva Porco giù da succedere di più, cazzo Fermo, 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 fermo Vai Di qua cosa c'è? Un muro Ok Cazzo c'è un altro Oh Così mi pi... Oh, oh, oh Quello lì Ok, c'è gente qua Cazzo non c'è neanche L'altra di Oh Eh, però sei un poco bastardo Non ti avevo visto Vabbè Ok Ok Ma Qua sembrava ci fosse qualcuno Invece non c'è nessuno Spieghami un po' sta cosa No Mi sa che è sopra, sapete? Secondo me sì Aspettate che qua però Come cazzo ci arrivo là sopra Non mi fa saltare così tanto Qua c'è proprio blocco E allora forse devo per forza passare di qua Per arrivarci Vediamo No No Perché devo passare sopra le rotaie? Sei veramente un gondons Ok Ah, ho capito che Devo fare queste cose io Ok Vabbè Qua non c'è nient'altro Perché lì a quanto pare Non posso andarci A meno che Questo Non faccia qualcosa Ma Non cambiamo cazzo Andiamo Eh ma tanto non vengono Non so come arrivarci lì ragazzi Ma proprio zero Quindi vabbè Andiamo avanti Ah Eh già C'è questo piccolo problema Come cazzo Apriamoli Non c'è una manovalla Oh sì No Come cazzo si alza questo? Aspettate Eh infatti Mi sa che qua non possiamo più andare avanti Oh Lol Vabbè Sì ma là sopra Come cazzo ci arrivo? Vorrei sapere come arrivarci là sopra io Vabbè Niente Quei due sono morti Per la patria Ok Vai E devo proprio capire Come cazzo Salire là sopra Sapete È l'unica Che ci blocchiamo Vabbè Qua tecnicamente Abbiamo comunque Mettate Sai quanto ce ne frega noi Passando a sopra E va a fanbrodo Certo Era più comodo andare con Il carretto Però Se proprio non possiamo Oh Qua mi sta distraimboscata Wow 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 Da dove? No l'altro Ma vai a cacare Merda Ma sul serio Ma sei veramente un maledetto Cazzo Allora Aspetta che adesso che so che sono lì Lancio subitissimo La Esatto Comunque Con queste cazze di affari Hanno rotto un po' le palle Ma se io facessi così Per dirti Sapevo io Che lanciavano ste cazze di Ma allora Io vorrei capire male il gioco Ma Eh fa po' Siete un po' dei maledetti Ve lo dico Wow Che pelo Ma come cazzo fa a colpirmi? Sapete cosa? Mi ha rotto un po' le palle Adesso Vi giuro che Oh Cazzarola Sì ma tanto muoio lo stesso Non cambia la situazione Perché se io faccio così Ecco appunto Allora Il problema grosso è questo Noi dobbiamo riuscire a Aspetta un po' C'è un altro qua sopra adesso Bastardo Ma guardalo Ma guardali Porco due No l'altro Sì ma Allora ma Allora aspettate Perché qua E' veramente ragazzi C'è il delirio universale Adesso Mi sto incacchiando Niente Non riesci A farlo in nessuna maniera Ok Adesso facciamo Di testa mia Adesso vado veramente a cazzo duro Ragazzi Senza futuro Uno 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 Ok Ma te come cazzo devo combattere Contro i nemici Sopra No Ma what Ma cosa Tu non mi vorrei veramente dire che Che se eri ancora vivo Madonna tipo veramente Ti inchiappettavo Mamma mia Che dito in culo di parte questa Ok Ah intanto lì c'è una vita che non guasta Eh comunque hanno fatto bene a metterne di più di qua Qua era veramente tosto Ok 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 Ah già è vero Andiamo semplicemente avanti Aspettate che qua Ok No 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 Eh ma ormai l'ho buttata Non era mia intenzione Però ormai l'ho buttata Ok Lì poi si poteva salire Ma noi andiamo qua Vai Aspettate eh Andiamo a far così Vediamo se ora è a posto Chissà perché lo immaginavo Che abbiamo ciccato bellamente qua Ecco Bravo Van Mi è piaciuta questa La so che ti è piaciuta E niente io continuo A far ste cose Ok Forse stavolta ci abbiamo fatto A farlo giusto What? 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 Ok Perché ti sei incastrato adesso? Perché? In che cosa ti sei incastrato? Spiegami Ah ok Non ho saputo questa cosa Vabbè Uccidimi Ok Cioè Che bug enorme Io non lo so Mi ha bloccato dentro l'ascensore Perché Ho fatto su e giù Troppo velocemente Vabbè Il gioco è bello Però minchia Ogni tanto c'è giù dei bug Ragazzi Mamma mia Ok Farmi E non sarà Allora facciamo una cosa furba va Che in assoluto non è una cosa furba Ma Sempre meglio che niente Oh ok Non siamo riusciti a fare quello che dovevo fare Uff Ci credete che è più complicato fare sta cosa qua Che qualsiasi altra cosa Qua ne sono morti male Due Mi sa che c'era qualcuno Qua è morto malissimo Ok 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 Okissimo Perfetto Oh No No cazzo No cazzo No dai Non avevo l'arma addosso Porco Giuda Vai No l'altro Ecco Bravo Pirla Vabbè ragazzi Io non so più cosa dire Lascia a voi le parole Scendi Non sono abbastanza veloce Porco Giuda Dovevo salvare Prima quando ho fatto quel pezzo lì Sapevo di dover salvare Perché purtroppo è incasinatissimo quel pezzo Eh vabbè morto Vai Tutto sta nel Calibere giusto Oppure fare la pirlata Riproviamo Oh Finalmente Ci abbiamo fatto Aspettate che Stavolta mi metto Ti giuro Ma rotto così tanto le palle Che adesso vado giù di mani Un secco proprio Senza tanti preamboli Ottimo Vai mani Ha voluto cambiare così lui a minchia le cose Ma va bene Ok mi sa che quindi devo salire su di sopra No 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 Aspetta 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 Ok Qua nemici non ce ne sono Ok perfetto Ok qua è perfetto Il problema più che altro è che Non so assolutamente come arrivarci qua Ah qua c'è l'elettricità E va bene Quindi aspettate Noi possiamo anche Sto cercando di capire Un secondo ragazzi che cerchiamo di capire un attimino che cazzo Dobbiamo fare Ecco Ah io Il problema è come arrivarci qua Cioè devo riuscire Madonna 4 di vita Mamma mia 4 di vita però non si può vedere Veramente non si può vedere Aspetta aspetta Ok Eh ma di là È diventato grigio Perfetto Via Ha Il problema ora è capire come Arrivare fin qua Perché quello lì è chiuso Dove lo apro quello lì? Non so pure io emergenza Di qua non siamo andati però Sapete?